Inaugurata questa mattina a Bari l'82esima edizione della campionaria barese. La Fiera del Levante ha visto come da protocollo i discorsi di apertura delle più alte cariche istituzionali, locali e nazionali. La linea allora va ad Alessandra Tursilli che ha seguito per noi gli eventi di questa mattina. Sì, grazie per la linea. Allora, questa è stata la giornata in cui ha preso il via l'82esima edizione della Fiera del Levante a Bari che con la campionaria di settembre segna un po' la ripresa di tutte le attività istituzionali e anche delle attività politiche. Quindi come da tradizione erano presenti molti rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico ma naturalmente grande attesa c'era per le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che proprio in questi giorni ha superato i primi 100 giorni di governo. E allora andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni. Da quanto questo governo si è insediato sono state scritte tante parole sul modo in cui intende relazionarsi con il mondo dell'impresa e più in generale sul modello di sviluppo che intende promuovere. Voglio pertanto cogliere questa occasione anche per offrire qualche elemento di chiarimento e semmai anche tenendo conto del genius loci. Un piccolo aneddoto, durante la conferenza stampa con il Presidente Trump il Presidente Trump ha dichiarato pubblicamente e ufficialmente che i prodotti che hanno di più sono quelli italiani e ha invitato anzi con l'occasione gli investitori e il suo Paese a investire in Italia perché è il Paese giusto in cui investire. Questa è una grande lezione che va ribadita qui alla Fiera del Levante in una città che nel commercio e negli scambi con altri ha fatto la sua vocazione. Oggi come nel secondo dopoguerra la forza delle nostre imprese potrà aiutarci a produrre quelle risorse di cui abbiamo bisogno per fare del nostro Paese un Paese più giusto sul piano sociale e dell'equità fiscale più forte sul piano delle infrastrutture meno diseguale, eterogeneo sul piano della dimensione territoriale più inclusivo per i giovani e per tutti quelli che vivono in condizioni di povertà. In questo quadro la volontà di questo Governo è quindi quella di sostenere chi intraprende per creare ricchezza vera per se stesso e per gli altri. Lo vogliamo fare con tutti gli strumenti concretamente a nostra disposizione. Ne abbiamo tanti, li sfrutteremo tutti, ne indico alcuni. Sul piano interno possiamo agire sul piano della regolamentazione della fiscalità e della sollecitazione agli investimenti in infrastrutture. Sul piano della regolazione abbiamo bisogno di un quadro normativo coerente certo e chiaro che non imponga inutili vincoli, lacci, lacciuoli agli operatori. Occorre ridurre i tempi e i costi degli adempiamenti richiesti a cittadini e operatori economici. Come sapete abbiamo annunciato, l'ho annunciato personalmente, stiamo lavorando a riforme in questa direzione che consideriamo di struttura. Semplificazione burocratica, oltre che normativa, digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni. In questa direzione considero una riforma strutturale anche il disegno di legge che abbiamo appena deliberato dell'anticorruzione perché è una riforma di struttura che aiuterà a depurare l'ambiente economico, la business community, da comportamenti illeciti, dalla corruzione che è distorsiva della leale competizione tra gli operatori economici e soprattutto renderà più appetibile la nostra realtà sociale ed economica agli occhi degli investitori stranieri. Sul piano della fiscalità, adesso non posso agire, lo so che c'è molto fermento, molta curiosità, non posso anticipare i dettagli della manovra economica, saranno resi però, la curiosità sarà pagata a breve, in occasione della legge di stabilità. Voglio solo chiarire che siamo assolutamente consapevoli che le prime vittime dell'instabilità finanziaria sono proprio la produzione e i commerci che soffrono sommamente dell'incertezza delle prospettive, dell'alto costo del denaro e della difficoltà a reperirlo. Sarebbe irrazionale e dannoso favorire le imprese sul piano fiscale e al contempo danneggiarle, minandone la capacità di programmare l'attività e provocando un aumento dei costi di finanziamento. E naturalmente gli ha fatto eco anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che nel suo discorso ha puntato l'attenzione su quelle che sono le principali emergenze della nostra Regione, della Regione Puglia, partendo naturalmente dalla questione ILVA che proprio nei giorni scorsi ha fatto registrare una svolta positiva con l'accordo raggiunto tra governo e sindacati e che consentirà dal prossimo 15 settembre il passaggio di consegne ad Anselor Mittal, il colosso industriale franco-indiano dell'acciaio. Allora ascoltiamo proprio alcuni passaggi del discorso di Emiliano. L'interesse generale sfugge dalle mani dei politici, persino da quelle dei più lucidi ed onesti. E le lobby riescono sempre a farla franca, anche quando il bene in gioco è la vita stessa e la salute delle persone. Le conseguenze di questo declino sono state devastanti sulle nostre giovani generazioni. Niente sogni, niente progetti, niente giovani, niente nuovi nati, niente nuove imprese, persino niente calciatori, da sempre l'alternativa per chi non ama troppo lo studio. Le aziende italiane pubbliche e private sono all'asta, salvate da fondi di investimento o da oligopolisti che si appropriano degli asset strategici della nostra industria, come nel caso dell'ILVA, imponendoci condizioni capestro sul lavoro e sulla salute. Mi auguro che si possa utilizzare questa disponibilità a fornire gas a prezzo calmierato, a fine di tutela ambientale e sanitaria, per convincere l'acquirente dell'ILVA a decarbonizzare tutta la fabbrica e non solo AFO 5. E contemporaneamente mi piacerebbe preparare con i tarantini e con le forze politiche della città disponibili, anche approfittando della legge regionale sul Taranto, e oggi ho appreso della sua volontà di varare una legge nazionale sul Taranto, e applaudo a questa sua iniziativa, un piano di diversa industrializzazione dell'area attualmente occupata dall'ILVA, man mano che le immense aree occupate per l'utilizzo del carbone saranno dismesse. Sottrarre Taranto, la sua provincia, alla monocultura dell'ILVA è possibile e doveroso e insieme possiamo riuscirci. Non mi si chiederà, spero, di difendere la salute dei tarantini solo attraverso i passi da gigante che l'oncologia pugliese sta compiendo negli ultimi anni. Avendo trasformato un intero ospedale nell'oncologico di Taranto, rivoluzionato il principale presidio del Giovanni Paolo II di Bari e creato finalmente la rete oncologica pugliese. In questo ambito, la Regione Puglia ha varato il Tecnopolo, che è uno dei più grossi investimenti in ricerca mai realizzati nel Mezzogiorno in collaborazione con il CNR, e finalizzato ad approfondire il rapporto anche statistico tra alcune malattie neurodegenerative e malattie tumorali. Con gli stili di vita, stiamo investendo 48 milioni di euro in 5 anni per diventare il punto di riferimento della ricerca italiana insieme alle nanoscienze del CNR di Lecce, all'IRS Oncologico e al Policlinico di Bari. Quando ancora a Milano, nulla si muove sui progetti di analoga importanza. Altri 45 milioni saranno assegnati alle Università di Bari e di Foggia per sostenere i costi delle scuole di specializzazione per formare i medici pugliesi, dei quali abbiamo assoluto bisogno. Quattro nuovi ospedali del massimo livello sono in costruzione a Taranto, in provincia di Lecce, ad Andria e con la posa della prima pietra nei prossimi giorni tra Fasano e Monopole. Non abbiamo chiuso nemmeno un ospedale, ma riconvortito quelli inutili e pericolosi in strutture di lungo degenza per malattie croniche o riabilitative, utilizzando meglio il personale ed applicando la legge, non decidendolo noi con la nostra testa. La nostra regione sta, nonostante gli ostacoli, spendendo bene le risorse che il Paese e l'Europa le ha messo a disposizione. E ora invece andiamo ad ascoltare un passaggio del discorso del sindaco della città metropolitana di Bari, nonché sindaco del capoluogo pugliese, Antonio De Caro. E questa è la voce che oggi più che mai la politica dovrebbe provare a ritrovare. Una voce in grado di accorciare le distanze, di creare comunità unite, una voce in grado di tenere nello stesso grande racconto i bisogni di ciascuno e il bene di tutti, il bene di tutti noi. Qual è invece oggi, sempre più spesso, la voce della politica? Quale voce usiamo noi politici? È purtroppo una voce cinica, volgare, che aizza la rabbia dei singoli, che crea muri tra le persone, che fomenta guerre tra poveri. Una voce che soffia ogni giorno sulle paure e sugli egoismi. E non a caso, spesso, noi politici ci vantiamo di parlare alla pancia dei cittadini. Io penso, invece, che sia nostro dovere tirar fuori la nostra voce migliore e provare a smetterla di parlare alla pancia e ricominciare a parlare alla testa dei cittadini. E se è possibile... Se è possibile anche al cuore, per rispetto nei loro confronti sicuramente, ma per rispetto anche della nostra funzione. E penso prima di tutto a noi sindaci, agli 8.000 sindaci che mi onoro di rappresentare da Presidente del Lanci. Ecco, a noi sindaci non è consentito parlare alla pancia, non è consentito parlare per slogan, per un semplice motivo. Per vicino o lontani che siano, al signor Nicola, che è in attesa di una casa popolare, o alla signora Franca, che non può portare suo figlio al parco perché le giostrine si sono rotte, io posso pure parlare alla pancia, posso dire è colpa dell'immigrato, è colpa della burocrazia, è colpa della precedente amministrazione, con tutti i rischi del caso, perché il mio predecessore che si è a 140 kg, diciamo, lo posso fare. Può andare bene la prima volta, può andare bene forse la seconda, ma c'è un problema. Il signor Nicola e la signora Franca sanno dove abito, sanno dove abita un sindaco. E se non gli risolvo il problema, mi vengono a prendere da sotto al comune, come si dice a Bari, come si dice nella nostra terra, Presidente. Ecco, noi sindaci, anche volendo, non possiamo allontanarci dai nostri cittadini. L'avvicinanza è il nostro dovere, di più è l'essenza dei sindaci. Naturalmente ha preso la parola questa mattina anche il padrone di casa, Pasquale Casillo, il nuovo presidente della Fiera del Levante, nominato proprio nei giorni scorsi. in questa occasione naturalmente ha tracciato quelle che sono le linee di sviluppo del nuovo ente Fiera. Sentiamo. Come sarà noto ad alcuni di voi, la mia nomina alla presidenza dell'ente autonomo Fiera del Levante è recentissima. È un grande privilegio per me poter restituire al mio territorio, scusate, col mio impegno, una piccola parte di quanto sempre un territorio offre ad un'impresa che si afferma. La nomina giunge al termine di una gestione commissariale che si è occupata prevalentemente di risanamento finanziario dell'ente. Il sostanziale conseguimento dell'obiettivo di risanamento consente oggi all'ente di riprendere il proprio cammino ordinario ripristinando a partire dalla presidenza tutti gli organi statutari in conformità ad uno statuto che pure è stato rivisitato anche in virtù del fatto che l'ente autonomo a seguito della legge regionale 2 del 2009 non possa più svolgere attività commerciali quali l'organizzazione di manifestazioni fieristiche. Si è pertanto proceduto ad affidare tali attività ad una società concessionaria la nuova fiera dell'Evante SRL la cui compagine sociale è composta dalla Camera di Commercio di Bari che ha una quota dell'85% e dalla Bologna Fiere S.P.A. che ha una quota del 15%. Quella che Presidente Conte inaugurerà fra qualche minuto sarà la prima fiera dell'Evante organizzata dalla menzionata società concessionaria. Potrebbero sembrare dettagli ma a mio parere questi elementi di contesto sono indicativi del percorso articolato che è stato seguito durante questi anni. All'ente statutariamente competono obiettivi molto rilevanti che a partire dalla valorizzazione del quartiere fieristico favoriscano la promozione commerciale delle nostre imprese la loro internazionalizzazione la circolazione di idee informazioni innovazioni e persone i processi di innovazione in campo commerciale gestionale organizzativo e tecnologico la nascita e lo sviluppo di imprese e di iniziative basate sull'economia della conoscenza e della creatività la promozione dell'arte e della cultura Dalla Fiera del Levante per ora è tutto vi restituisco la linea